Una quarantina di fanti riuniti davanti all'ossario di Bassano per deporre una corona dall'oro in segno di rispetto e memoria degli oltre 5.000 corpi che riposano all'interno del sacrario. Un gesto simbolico nel pieno rispetto dell'enorme anticontagio che cade nel centenario del milite ignoto ma che vuole segnare l'onore portato a tutte le vite stroncate nei conflitti. È giusto ricordare anche questi caduti che si è pensato molto all'esterno ma non si è pensato all'interno dell'ossario che è la cosa più essenziale. L'interno di un edificio come abbiamo ricordato più volte che deve restare aperto e visitabile tutto l'anno ma che deve coinvolgere un'intera comunità. Noi fanti stiamo garantendo l'apertura dei fine settimane al tempo ossario e ringrazio fin da ora tutti i miei tutti la zona 2 che fanno questo tipo di servizio però come detto anche in altre circostanze mi piacerebbe dire che il tempio ossario che ospita vite purtroppo militari ma anche civili deve essere considerato patrimonio culturale storico valoriale di una città di un territorio e quindi di questo tempio ossario dovremmo ricordarcene tutti i giorni dovremmo cominciare con le scuole con le nuove generazioni con la comunità civile renderla partecipe e dare anche quella disponibilità nelle aperture perché crediamo fermamente e convintamente che sia patrimonio responsabilità di tutti.